Ed eccoci qua, siamo tornati, buon pomeriggio a tutti, un nuovo video Sì, ci sono, ci sono, un nuovo video, pensavo di non aver attivato il microfono per un attimo Ciao Federico, buonasera anche a te, pronti a giocare su Fortnite, vediamo cosa ci aspetta ragazzi Chiedo scusa per l'audio a tutti voi, purtroppo ho avuto un piccolo problema in quella live Che risolverò prestissimo E voglio ringraziare soprattutto per questa live Andrea, Topazio e Leo Grazie mille a voi, buona visione Grazie mille a voi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501